Terzo appuntamento alla Sala Espositiva delle Vare di Tralevare in Preghiera. Dopo la Via Crucis, presieduta dai parroggi di Sant'Agata, Santa Lucia, Sacro Cuore, Santa Flavia, Santo Spirito, Santa Barbara e Santissimo Crocifisso Sant'Isidoro, è seguito lo studio analitico delle ladate del Venerdì Santo di Caltanissetta, a cura di Don Alessandro Rovello. Le ladate, o lamentanze, sono antiche forme di canti religiosi, cantati durante i riti della Settimana Santa. Sono stato chiamato a fare una riflessione sulle ladate, che sono un momento della pietà popolare della nostra città, in un contesto particolarissimo che è quello della Sala Espositiva delle Vare. Sono, dicevo, felice perché si crea un incontro molto bello tra la spiritualità, la cultura e le tradizioni popolari, la nostra pietà popolare, che così recupera un suo valore più profondo, più bello, e ci aiuta nel nostro cammino, attraverso il tempo anche quaresimale, verso la gioia e la festa pasquale.